Nei pressi della sezione ferroviaria di Pestum, a pochi metri dall'area archeologica, si sono verificati dei furti alle auto di alcuni turisti, con danni ai vetri e carrozzeria. Fra queste è anche quella di Gabriel Zuchtriga, il direttore del parco. In un post sul social Facebook posta la foto della sua auto danneggiata dai ladri e lancia un messaggio. Questa volta è toccato a noi, vetro della macchina rotto e caduto tra la sezione di Pestum e Porta Sirena. Niente di che. Ma che diranno i turisti che subiscono episodi del genere e si portano via questo ricordo del sito?